Isola dei Famosi, nuovo scontro tra Nathalie Caldonazzo e Christopher Leoni. Entrambi si trovano all'isola di Sant'Elena e sembra che stiano perdendo colpi. Il motivo scatenante del litigio? Il cibo. Christopher non avrebbe apprezzato un comportamento della sua compagna di avventura e ha deciso di dirglielo. Mi avevi promesso che non mangiavi fino a domenica e invece hai mangiato una scatoletta di riso senza dirmelo quando io dormivo. Nathalie a quel punto si infuria e getta tutte le scatole verso il concorrente, come per dire te le regalo tutte. Ho ceduto ad una scatola, avevo fame e stavo morendo e tu mi metti all'agonia? Fai l'uomo, mi hai mortificata quando io ti ho sempre difeso e non fare la tua scenetta davanti alle telecamere. Insomma, il litigio è stato piuttosto acceso. Cosa dire, in quest'isola dei famosi non ci sono più questioni di cuore. Solo questioni di fame. Alla prossima!